idea zero io sono nato calciatore nel senso ho fatto nove anni nel milan poi andrea l'ho conosciuto con rombolano che il ragazzo che ci ha messo in contatto l'ho conosciuto con un saluto d'andrea esatto ciao rombolone l'ho conosciuto tramite un amico in comune che appunto giocava giocava assieme al milan e niente da lì semplicemente ho fatto fatto il portiere ho fatto due anni in serie di asiena dopo la primavera ho vinto due campionati ho iniziato la classica il classico percorso in lega pro e dopo di che è successo qualcosa di particolare però insomma già lì avevo voglia di far qualcosa in più di diverso insomma sono sempre stato uno che voleva essere un po più un po di self expression o quello che si dice in inglese e quindi iniziato a fare i video iniziato a fare i video che è nato da una necessità particolare perché io sono rimasto nel 2018 senza squadra e dalla reggiana avevo un anno più due di opzione per per rinnovare era questa la cosa particolare che era successa sì perché lì da lì esatto nel 2018 non avevo giocato facevo il terzo portiere addirittura e il presidente allora che era mike piazza che era all star di baseball scappato tutta sì la reggio emilia poi era già tutti incazzati come il presidente fino al giorno prima era lì che cantavano i codi per lui il giorno dopo gli ha messo nel culo proprio detto il francese in maniera proprio si è andato si è andato si è andato lascia tutto società in bancarotta ripartire a serie d io giustamente sai non avevo giocato anche se avevo fatto bene anni prima senza squadra come risolve il problema adesso il tema è poi ci sono un sacco di retroscena che magari poi parleremo nel corso della puntata ma io che cazzo facevo c'è non c'era una partita eccetera allora ho detto beh sai cosa c'è fammi provare a mettere dei video sui social no quindi questa è stata un'idea che devo dare credito all'idea di del mio amico di piscitelli appunto che è l'amico che abbiamo in comune con corombolà e con lui abbiamo iniziato a fare dei video per metterli su instagram quando ancora su instagram non c'era il rittangolo non c'è neanche la possibilità di comunicazione con le bande nere per riuscire a fare stare in verticale esatti le youtube non c'era il ril non c'era no ma c'era anche tiktok quando iniziato io non c'era un cazzo c'è la cosa in verticale nata dai ril sì sì dopo tiktok esatto e da lì ho semplicemente detto ma sai che c'è io voglio provare a attrarre l'interesse in maniera diversa avevo visto zaccardo aveva fatto il post su linkedin per la squadra detto affanculo fammi provare a mettere gli allenamenti miei e ho iniziato a mettere gli allenamenti dei miei video faccio cose anche abbastanza spinte tipo saltavo le transenne comunque non sono alto le 90 però avevo qualità magari atletiche particolari perché sai sono un po più bassino e ho detto cazzo faccio cose spinte o dopo due mesi tre mesi ancora non succede un cazzo al quarto mese incominciano 300 mila visualizzazioni mezzo milione di views così esploso dal punto tutto mercato web incomincia a fare l'articolo tizio incomincia a fare l'articolo eccetera trovo di nuovo una squadra non va neanche bene tanto tanto in quella squadra perché sono arrivato a dicembre avevano già il portiere insomma gozzano era il lega pro sempre e poi è successo banalmente che da lì ho detto è successo il covid quindi doppiamente nel culo scusate zero filtri zero filtri e allora lì ho detto porca puttana di nuovo punta gapo ho detto però a questo punto avevo comunque un bel seguito circa 80 mila followers su sera avevo iniziato a prendere tiktok proprio veri veri cioè veramente tanto presto e ho detto portiamo sta roba qua voglio voglio arrivare da qualche parte cazzo con i social sono arrivato a fare un provino in una serie a norvegese ad oslo sì stato di tre giorni poi anche lì non mi hanno preso perché vogliono solo i vichinghi lì cazzo quindi anche lì non è andata bene e poi sono andato in georgia addirittura in georgia mi hanno contattato da instagram quindi questo è stata mi è piaciuto sì il tuo video è arrivato in georgia mamma sì 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 sono arrivati perché sono andati un po su 433 avevo questo target di dire devo fare video fighi perché così vanno su 433 433 il media più seguito al mondo sul calcio cazzo lì ci sarà qualche stronzo che mi vede no sono andati su 433 sì ne ho avuto una decina su 433 e uno di questi mi ha contattato questo procuratore dalla georgia sancho camportieri vieni con noi nella preseason vado in georgia potete capire che cazzo di ambiente tipo sembrava di stare a bagdad poveretti c'è una roba si chiama dilagori il posto una roba ragazzi mi vengono i ancora a pensarci avevo paura di morire da un giorno all'altro ma io cerca questa città che sono curioso sì sì cerca cerca gori perché aspetta gori 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 ma perché era una città molto povera o ma guarda le foto poi mi dici tu ok dimmi te quale sembra storico ma questo ma no qua ragazzi ma no ma questo è photoshop no 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 non era così quando l'ho vista io no no era tipo ma è squal no ma non è così questa è secondo me sono le rovine che ci sono di stalin per dire questa è la parte è una società è una città comunista ovviamente lì in georgia sai con l'urse eccetera erano tutti comunisti e però no era non è assolutamente così se tu vai a vedere su instagram secondo me qualcosa trovi ma è sì che si vengono bene sì tanto no è assomiglia molto a una città veramente disastrata dalla guerra tipo dopo post dopo guerra dove c'è il sito dove c'è le case che sono tipo a vecchie è stato assurdo perché lì ho fatto detto a me non so se bisogna una ferra un cazzo devo giocare a calcio vado pure in malaluna tanto quello era il mio obiettivo è questo andato la ho fatto un mese di ritiro con loro cioè comunque c'era un giocatore anche forti uno adesso gioca in champions league un altro gioca nella come si chiama carabag che è comunque la scuola principale azerbaijan ma ha fatto l'europa league ha battuto fuori la lazio qualche anno fa no le squadre c'erano giocatori anche interessanti in questa squadra qua da lì insomma ho fatto un mese di prova mi avevano offerto un contratto quindi due mesi e dovevo andare a giocare in prestito alla locomotive tiblisi che era la scuola principale della georgia quella invece era una bella locomotive tiblisi era una bella no no ero ero felicissimo sì 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 ero molto felice problema grosso era burocratico quindi due coglioni su sai nel caso sono tanti tanti retroscena di che non che non riguardano il campo c'è uno magari pensa sì è bravo va no e c'è il tema del del insomma dell'extracomunitario c'è il procuratore delle regole c'è c'è un sacco di tematiche ogni paese ha le sue un giocatore che arriva è dato principalmente dalla sua forza ci sono altri fattori che lo fanno arrivare ci sono assolutamente tanti altri fattori che lo fanno arrivare quindi non dalla bravura anche dalla bravura non è che sono scarsi non è la cosa principale è una cosa importante ovviamente senza bravura è difficile però non basta no ragazzi cioè no cioè allora per arrivare in serie a la verità è questa cioè se succede qualunque roba ok è che tu sei fottuto cioè non hai tante alternative perché è un terreno che passa una volta perché l'ambiente è talmente competitivo c'è talmente tante possibilità tu come per scegliere quindi squadra che non è un cazzo nessuno quindi o ci sei o ci sei anche se sei uno forte poi c'è chi ha più opportunità degli altri perché magari c'ha il padre che giocava c'ha il procuratore che conosceva tizio c'ha l'intrallazzo di mercato e quindi però quelle sono situazioni che sono extra campo il tempo io direi che il tempismo e il contesto sono le cose che determinano di più quando messi la mia esperienza così ancora prima della bravura beh sì io ho visto serve la testa testa perché se non c'è la testa non puoi giocare ad alti livelli ti parlo ma testa non perché sei intelligente testa che sei disciplinato cassano e ballotelli vedi io mi sono allenato con ballotelli un po di volte quando ero al mina io non ho mai visto nessuno così devastante era un ragazzo bravissimo d'oro da quello che non l'ho avuto modo di conoscerlo bene onestamente ma neanche di conoscerlo in tutta franchezza però da quello che percepivo quando faceva le battute perché avevamo in primavera tu hai l'area comune che è la palestra e poi c'hai lo spogliatoio di noi primavera e lo spogliatoio della prima squadra ovviamente noi dovevamo fare i cannellini bravi ma giustamente e gli altri avevano tutto il diritto di fare il cazzo che volevano e ogni tanto capitava sai in palestra comunque cazzo sei lì ballotelli cioè è un ambiente molto familiare no e ti dico percepivi io ovviamente non mi avvicinavo neanche a loro perché da primavera stai per i cazzi tuoi ma percepivo che era un ragazzo genuino bravo d'oro una volta mi ricordo che tipo ha preso ha lanciato la palla così mentre eravamo in palestra boom ha spaccato il muro della palestra poi l'hanno riparato ma senza senso cioè così prende fa capito è schizzo dire sì 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 però comunque nient'altro da dire nel senso lui è devastante madonna mia ma poi è un bravo ragazzo anche quindi da quello che ho visto poi assurdo era tu adesso giochi ancora io no ho voluto smettere perché poi dopo quell'esperienza lì la cosa assurda che poi è stato un cambio di vita è stato che io dai video sono andato in georgia appunto e da lì è successo il covid non sono filmato per motivi burocratici e cazzo col covid è stato un anno a casa che cazzo facevo lì ragazzi vuoi non vuoi un anno a casa pesa mi sono allenato tutti i giorni ho detto sai che c'è io ho un seguito social forte so come fare i video mi piace sta roba mi piace giocare voglio imparare ne più vado in america quindi ho preso ho trovato una master sono andato in america a giocare in questo master qua nel mentore una società americana mi ha preso per essere il loro marketing manager ah wow quindi ottimo no infatti ti sei reinventato praticamente completamente ho preso un master in management e comunicazione ho fatto da lì ho deciso che il calcio lo volevo lasciare stare ma semplicemente avevo avuto un'offerta nella serie b americana ma ho detto di no perché poi mi sono fatto questa semplice domanda ho detto tra dieci anni cos'è la cosa che rimpiangerò più di non aver fatto adesso ecco giocare a calcio e provare continuare questa strada qua dove comunque ho piaciuto nel culo tante volte dove il mio massimo secondo me poteva essere sì poteva fare il giocatore ma diciamo in quella prospettiva lì mls dici figo devastante ma ci sono altri problemi che poi magari ne parleremo un'altra volta però cavolo bisogna avere una certa lucidità per fare stesso discorso davanti a una proposta in serie b sì è vero però ti dico anche che col calcio sei la fortuna e la sfortuna di passare da tutto quello che ho passato io a livello di cia cazzo io ho messato tra virgolette l'ultima ruota del caro no sì e quindi ho sempre sempre stato lì sembra di quella roba lì alla fine non ti dà un come si dice un bagaglio no finale dove dici cazzo ho fatto i milioni ma ti dà un bagaglio di forza e adesso non te ne frega un cazzo cioè se devo fare qualcosa sì rispetto tutti però poi se devo parlare con lo spazzino col presidente di tizio anche quando c'è non cambia niente perché alla fine capisci una cosa semplice che è scontata ma è così se tu non arrivi o arrivi non dipende da te in quell'ambiente lì perché ci sono altre scelte che altre persone fanno che queste persone hanno detto che siano meglio peggio diverse da te e quindi vecchio mio cioè alla fine nel calcio soprattutto se è un indipendente pagato bene la verità è quella quindi se vuoi fare carriera devi piacere agli altri questa è una cosa che io ho sempre tra virgolette forse lì dove mi è venuto il pallino lì ho detto no ma è una cosa personale totalmente certo e io ho detto sai che c'è prendo e inizio la mia azienda con il fatto che ho fatto il marketing manager questa società americana qua e ho iniziato ho iniziato così la mia azienda adesso si occupa di fare abbiamo una tecnologia interna che fa video brevi per aziende tramite artificial intelligence quindi questa è una cosa molto sì non so se vi aspettavate no per niente come funziona sì certo allora io ho fatto appunto vi spiego letteralmente un po il background con questa società americana che si chiama storelli soccer che è il leader nel mercato delle protezioni calciatori portieri per lo più abbiamo adottato una strategia nel mondo influencer tu cosa fai tu prendi paghi due tre mila euro ok o qualcuno per fare il post perché lo vede la tua audience ok quindi qual è il problema il problema è che il ritorno sull'investimento è sempre incerto parte dei brand hanno sempre il dubbio che questo influencer non sia legittimo che è legitto si dice ma nel senso che sia fuffa ok esatto e poi hanno sempre la cosa che non cresco mai la loro audience così sono sempre dipende cioè se io sono un'azienda devo vendere red bull ok se io devo fare product placement con sta roba io sarò condannato a vita a pagare l'influencer con questo metodo o a pagare le ads giusto perché se voglio sponsorizzare sta roba vecchio mio c'è il riciclo devi ti afforso quello che ho pensato abbiamo pensato con questa azienda è ok ma se noi troviamo un modo per fare questa roba qua e diventiamo noi l'influencer quindi l'azienda stessa ok diventa un brand che comunica come se fosse un creator che risultati porta sta roba quindi come cioè letteralmente ha usato storelli io come se fosse la mia pagina personale risultati devastanti abbiamo fatto più mezzo milione di vendite ok in totale si hanno risparmiato 150 mila dollari di advertising comunque un'azienda che fattura due tre milioni di euro l'anno beh è nato molto bene ma è stata una combinazione tra fortuna e sperimentazione anche un po di logica ma da lì cosa ho detto cazzo ma sta roba qua si deve vedere che anche altre aziende ne hanno bisogno banalmente adesso stanno nascendo un sacco di agenzie per short form videos quello che diciamo noi facciamo di molto diverso che è una cosa completamente nuova è che tutto quello che ho fatto io come creator da quando ho iniziato a fare i video per gli allenamenti è stata una roba del tipo cazzo applica cerco di applicare quello che ha funzionato come a livello di percorso logico cerco di metterlo sotto forma di dati e cerco di usare questi dati per farlo per avere un astuccio tramite cui io riesco a fare questa cosa indipendentemente dall'industria del brand eccetera paradossalmente il metodo è questo è molto semplice tutti vogliono diventare virali no su tiktok che cazzo che non vuole diventare c'è anche voi che fate il podcast alla fine della fiera comunque volete avere un ritorno anche di visibilità ma è giusto è giusto prendere la nostra fetta di mercato per cui 15 minuti di celebrità perfetto ma anche se non fosse celebrità è semplicemente anche un modo per cazzo se io sono un artista ok voglio che il mio quadro venga visto certo è condivisione certo quello che diciamo noi è bene noi non sappiamo non abbiamo la formula magica ma abbiamo la formula per ridurre questo rischio al minimo paradossalmente se voi ci fate caso in ogni settore in ogni industria ok per esempio prendiamo il calcio ok io vado su tiktok paradossalmente cerco industria calcio e settore intrattenimento educativo dove cazzo volete e prendo un campione di 30 video che ha funzionato molto bene di 30 video che hanno funzionato così così e 30 video che hanno fatto cagare proprio schifo al cazzo seleziono questi video e mi metto a fare adesso all'inizio facevo io questo processo adesso abbiamo un team di persone che lo fa e ci mettiamo a fare un bel lavoro cioè abbiamo questi video qua e poi abbiamo una serie di variabili quello che chiamiamo noi variabili che sono per esempio il testo la luce il pattern emozionale comunicazione inconscia cosa dice questo di più di tre secondi tutta questa serie qua ci abbiamo più di 100 e semplicemente facciamo questa c'è questa non c'è questa c'è questa non c'è per ogni cazzo di video cosa succede all'avviene tu hai l'indice di performance che è per esempio fatto cagare forte bene hai le variabili e c'è un algoritmino che è molto semplice su excel adesso sembra che sa che cosa ma è una cazzata è una puttanata sì fai l'indice di correlazione ok fra la presenza di queste variabili è la performance del video quello che ti viene fuori è letteralmente quanto la presenza di una variabile influenza la performance quindi alla fine magari un video di merda è di merda perché c'era il testo fatto male la grande takeaway che tu ti trovi da sta roba non è formula magica per diventare virali è formula magica per capire perché un video funziona e perché no certo capito quindi da lì dici ok questo minimizza il rischio per le aziende no e quindi ho detto cazzo connettiamo questa roba qua internamente tramite adesso c'è anche la tecnologia open ai gpt 3 se tu hai questo data se di proprietà alla fine la fiera cosa puoi fare puoi dire esattamente c'ha gpt che cazzo deve fare nel dettaglio più specifico possibile quindi l'idea mia è semplicemente quella che alla fine abbiamo una tecnologia dove con questo data set che è in proprietà tu che comunque è abbastanza complesso anche quello da prendere perché le variabili insomma le ho studiate per mesi hai la tecnologia gpt 3 che semplicemente fa da tramite tra quello che sono i dati e la comunicazione e poi c'ha il lo user finale che è il creator quindi mi immagino semplicemente come agenzia noi che siamo di short videos utilizziamo questa tecnologia per dire cazzo c'ho i dati c'ho questo al creator semplicemente schiaccio un tastino ho le mie 15 idee generate che hanno possibilità di performare con tutte le linee guida eccetera il creator semplicemente va lì e le fa in 5 minuti anziché spenderci ore quindi chat gpt ti crea il testo del video cioè quello che vedrai nel video si come crearlo esatto la differenza che a differenza di chiedergli dammi tre idee per un video sulla red bull gli dico dammi un'idea per un video sulla red bull che abbia questo tipo di aggancio questo lunghezza del video questo pattern emozionale assurdo assurdo questa è la svolta l'illuminazione ma può essere vediamo poi ti dico sono da quando sono in america sono fan sfegatato di start up eccetera e ho avuto modo di conoscere anche personaggi di un certo spessore nel mondo c'è gente che ha fatto exit da centinaia di milioni di dollari quindi molto ho avuto fortuna e però a loro mi hanno insegnato a ragionare e questo semplicemente quando fai una start up puoi avere un'idea bella brutta quello che è quello che conta brutale verità e io adesso sono qua sto facendo sto mettendo in piedi poi magari domani vedo che è un attraction cioè che la gente non ne frega un cazzo perché può anche essere quello quindi tu devi essere pronto a dire ok perché cosa devo cambiare oppure poi anche chiude bottega perché può anche non avere senso ok quindi magari può essere l'idea che ti fa diventare milionario è come nel calcio c'è l'idea c'è il tempismo e c'è il contesto se l'idea fa cagare puoi sempre funzionare perché il tempismo e contesto fanno bene però quelli sono i due fattori diciamo che sono più importanti dell'idea stessa ok perché proprio se c'è uno studio sulle start up in america dove si vede banalmente che out of diciamo 100 aziende ok che hanno avuto successo microsoft il fattore più determinante non è l'idea è il tempismo cavolo mette ansia comunque si vede che ti ha formato il calcio eh lo usi come metodo di paragone sì 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 ma cazzo no ma ragazzi se c'è un po fa sport devastante quella roba lì più della scuola per me io sono più fautore di stare qua a livello di mentalità madonna sì 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 se il tuo percorso come calciatore come portiere fosse continuato fosse andato bene al meglio delle sue possibilità domanda molto secca netta guadagneresti più lì o dove sei adesso come posizione ah se devo poi regolarmi di adesso adesso guadagnare sicuramente a parità di fattori con facendo portiere ok adesso sono all'inizio della mia carriera imprenditoriale ok quindi nel senso la cosa bella è che ho preso le lezioni che ho imparato col calcio le sto applicando nel fare impresa e poi la cosa figa è che oggettivamente vedo che non ho le skills di altri quindi non so fare codi non so fare un sacco di roba ma a livello di vita è come se mi sento come un cinquantenne cazzo ne ho passato di più io che non lo so ovviamente ognuno c'ha le sue però la cosa fortuna fortunosa è che il calcio nelle difficoltà ti dà veramente c'è insomma l'integrato del percorso sono esperienze formative porca puttana diventa parte di te però sono ancora povero quello il tema quindi ti tocca della di tutto non paga così bene mi paga mi paga però è una mia scelta personale avrei potuto guadagnare molti più soldi con i social però appunto poi ho deciso di seguire quella mia passione che fare business e ho detto faccio meno sui social mi concentro di più sulla mia società su quello che voglio fare rinuncio a qualche guadagno ma acquisisco in tempo libero quindi adesso il mio il mio vero valore avere cioè io con tre ore a settimana di lavoro il mio stipendio basta e poi posso avere 24 ore al giorno 22 ore al giorno quello che è per fare il cazzo che mi pare capito quindi buttavia cosa che prima se tu avessi continuato a giocare ti allenavi tutto il giorno avevi le partite quindi avevi anche tempo libero no esatto però che figo è fare il giocatore cazzo anche gestire un'azienda con un'idea del genere magari nel futuro ti rende di più ma guarda se rende una cosa del genere rende 100 per quello che può rendere un calciatore anche di serie a quello sì però è sempre una scommessa poi certo io io non inseguo ti dico chiaramente ovviamente i soldi sono un fattore un driver interessante ma seguo di più quello che mi piace non seguo avrei potuto guadagnare molto tanti soldi già adesso facendo altro e con i social ho detto di no perché voglio avere il mio progetto poi ho sti cazzi beh ti fa un'ora lo posso fare adesso adesso che ho 27 anni ancora sono tranquillo dormivo i divani sono andato a Miami ho fatto sette mesi sui divani da un divano all'altro per non spendere soldi quindi capito è così io ho scurizzato su tiktok su instagram ho visto te fai video in inglese ma è una scelta che hai fatto dopo col tempo o hai detto io se faccio video in inglese subito perché volevo arrivare non solo in italia sì frega un cazzo cioè io sono l'italia alla fine è dopo che vedi un po posti fuori è il posto più figo dove essere ma allo stesso tempo è quello che se sei giovane è quello che ti limita di più porca puttana non c'è niente da fare questione di mentalità secondo te questione completamente mentalità sai perché perché in america la persona che fa successo non è vista male qua in italia siamo invidiosi anche dei calciatori molte persone sono invidiosi perché prendono un sacco di soldi giocando a pallone detta così in modo schietto hai la sensazione sempre che tutti quanti cercano di dirti che il tuo gol nella vita è sopravvivere non è vivere pensaci tu quando esci dall'università cosa c'è lo stage da 600 euro al mese pagato una merda una merda in america anche ce l'hai poi però quando hai finito l'università guadagni 4.000 al mese non 300 euro qua per fare mille euro al mese sembra che chissà quale cazzo di roba hai fatto per andare a deloitte ok devi guadagnare 2.000 ma sono società classica ti dico percorso classico di uno che esce dal bocconi al politecnico la invece è completamente diverso la c'hai l'opportunità se porti valore e questa mentalità qua ti fa sì che qua in italia se tu fai successo mi gira il cazzo perché perché io tutti ti tengono a bada tu non vuoi uscire mai dato comfort zone non vuoi fare qualcosa in più ma non perché tu sei sbagliato perché il sistema ti induce a pensare quello in america il contrario o non sto dicendo che in america un paese di merda pure quella gente che ormai è contro in tutto nella vita nei paesi però la nostra età non c'è nessun altro posto se sei un creativo poi ciao lì proprio non hai limiti sai cosa ho visto anche avendo fatto un'esperienza in danimarca veloce veloce qui in italia la gente si sposa con l'azienda passa 20 30 anni tutta la sua vita in azienda a crescere lì dentro in paesi come la danimarca per esempio ogni cinque anni cifra x a caso cambi perché prendi tutto ciò che ti può dare un'azienda prendi la tua esperienza che è maturato lì dentro la porti dall'altra parte per prendere qualcosa di nuovo sono d'accordo assolutamente dove sei stata in neimarca sono stata copenhagen proprio copenhagen bello bello sono d'accordo è la retratezza italiana se vuoi siamo un paese di umanisti dinosauri se vuoi però a tutti va bene è ma perché perché a tutti va bene finché quando cosa succede non succede la batosta quando succede che ti pigli il calcio in faccia poi cosa succede va bene lo stesso a tutti sai perché perché tanto poi alla fine l'importante che tizio da una mano a sempronio tizio al ritorno e poi questo succede sempre dietro le quinte no è una mentalità quella che in italiana mafiosa nel senso che non è che la mafia criminale che governa il paese ma è la mentalità che sta dietro le aziende dove dicono io faccio un favore a te tu fai il favore a me tu mi dai il pizzo facciamo così di qua di giù fai il favore cioè tutto così o in america uguale tema grosso qual è in america è la luce del sole cioè in america se dicono a e b lo sarà tutti quanti ed è tutto legale tutto pulito ok non c'è una magagna che va sotto al tavolo quello che deve far favore allo zio qualità invece purtroppo è ho questa sensazione ti ripeto non ho avuto l'esperienza lato lavoro ma ho avuto l'esperienza lato calcio ed è uguale è uguale così lato calcio ragazzi c'è gente che ha 30 anni in serie c pur di giocare deve rinuncia a due mesi di stipendio dice mister io ti do due mesi di stipendio non fai un cazzo ma fammi giocare cioè c'è gente che si vende il padre a un momento c'è gente che magari dice ok ti faccio fare il contratto a 20.000 vecchio mio tu primo anno non prendo un euro mi prendo tutti io poi c'è anche si parla molto anche della mafia dei procuratori ma scusami il procuratore è un cazzo cioè può essere una brava persona può essere una brava ma al lavoro del procuratore se tu ci pensi è una sanguisuga per livello minore serie a tu devi essere rappresentato per chi ci sta ascoltando non lo conosce cosa fa un procuratore un procuratore è la figura che in poche parole aiuta il calciatore a negoziare contratti con brand sponsors e società di calcio ok ok una sorta di manager è un manager completamente in serie a ovviamente questo manager ha un perché di esistere e in serie b anche ad alto livello ha un perché di esiste perché comunque ci sono una serie di clausole contrattuali legali eccetera dove una figura professionale è più che necessaria cioè è necessaria ma quando sei in serie minori ok cosa succede che i soldi sono meno tu e il calciatore sei tutto quello che ha da perdere perché tu non sei nessuno e devi soltanto sperare che tra virgolette tu possa far qualcosa e quindi cosa succede il procuratore ha un potere su di te pazzesco pazzesco ha potere di vita di morte perché se tu ci pensi se tu sei un nessuno ok devi farti da solo tu hai bisogno di aiuto certo di far la gaveta il procuratore cosa fa il procuratore non rischia un cazzo non rischia niente il procuratore se te va male ok tu non sei nessuno vai male fai un cazzo sul prossimo perché vuole avere ragione così invece inserire un po' diverso inserire un po' diverso perché sono nomi diversi nomi diversi dinamiche diverse soldi diversi tutto un po' diverso però è per quello che io sono un po' anche il procuratore secondo me finché non sei un certo tipo di livello veramente è una distrazione per me e il mestiere in sé che non non mi a basso livello non mi non mi convince capito tu come persona piccolo come fai andare alle squadre a trovare come fai bene l'unica cosa devi far bene ti vai lì a presentare o c'è un procuratore che veramente vede qualcosa in te ok quindi un ragazzo giovane tipo il classico profilo di un procuratore che come te vuole far carriera quindi deve portare la scoperta al direttore sportivo e allora lì può avere un senso ma se tu hai un nome affermato come procuratore ok e tu vuoi far carriera e poi mi fai un cazzo perché dicono ok io ho viola devo darlo al gubbio al gubbio al direttore gubbio dico ok dammi 3.000 euro di procura non te lo prendi magari il gubbio è interessato in viola tanto che cos'è i soldi che girano sono pochi quindi dico eh ma di 3.000 euro non ce li ho ok grazie ciao piuttosto metto viola in eccellenza in eccellenza magari mi da 5.000 euro dico cose a caso e 5.000 euro mi intasco io viola in eccellenza frega un cazzo capito qual è la mentalità è un sistema così eh che merda è abbastanza però dall'altra parte c'è anche sempre l'upside che se fai bene azzecchi l'anno io ho giocato con tanti giocatex giocatori cioè giocatori attuali Petagna Cristante Messias anche a Gozzano ho giocato con tanti giocatori che adesso sono arrivati e ne conosco tanti non c'è uno soltanto che non abbia azzeccato il momento giusto l'annata giusta o la situazione giusta c'è chi ha avuto una possibilità sola e l'ha sfruttata Messias c'è chi ne ha avute tre tipo Petagna che in primo anno in Serie B faceva fatica comunque dalla primavera è andata in Serie B ha fatto cagare primo anno secondo anno il terzo anno ha azzeccato data l'Atalanta ok però lì vedi c'è gente che ha più possibilità di altri perché è giusto il sistema che è sbagliato non è colpa dei ragazzi ok e poi c'è gente come Messias che ha preso l'anno a Gozzano perché ha preso l'anno ha firmato il Crotone in Serie B ha preso l'anno a Gozzano perché comunque Walter era bravo era forte e poi giustamente cazzo ha fatto ha fatto ha fatto però lui se sbagliava una roba se due anni a Gozzano si faceva male alla caviglia e non gli fa male fine quali sono queste possibilità? cioè quando è che un ragazzo sa riconoscere che è una possibilità? un ragazzo che dice cazzo questa qua è una possibilità che non può più tornare cioè lo sai? questo treno che passo una volta che diceva prima cioè te ne accorgi e poi in futuro dici cazzo però magari se beh te ne accorgi te ne accorgi perché un'altra cosa che nessuno dice su questa cosa è che Lega Pro per esempio allora ci sono delle cose che non vanno assolutamente bene nel calcio italiano e non ho problemi a dire tanto non gioco più e non ho penso lingua allora la prima cosa che secondo me è una cosa assurda ok che fa soltanto piacere politico è il fatto che in Serie D giocano gli under quindi tu devi avere gli under che sono 4 quote obbligatorie che devono stare in campo che hanno sotto un determinato livello anagrafico ok quindi se tu sei sotto 18 anni sei un under devo metterti in campo obbligatorio eh non scapi e c'è il limite di fuori quota no? c'è il limite di quote cioè no c'è l'obbligo di quota di 4 quote ok e c'è un unlimited number di fuori quota c'è quindi di gente adulta che può giocare in Serie D non so cosa siano le quote le fuori quote sono quelli più grandi praticamente sì sono ok tu hai detto che c'hai il limite cioè possono giocare tutti quelli fuori quota più grandi allora in Serie D quindi ti parlo del più basso livello diciamo un ragazzo che vuole fare il giocatore dopo la primavera va in Serie D tu hai 4 giovani che devono obbligatoriamente fare 90 minuti tutte le partite quindi se questo qua non sa calciare il piede se c'ha il sinistro a posto del destro e il contrario se c'ha che cazzo c'ha una mano a posto della testa deve giocare punto e quella è la prima falla perché poi una volta che tu non sei più fuori quota e sei scarso cosa succede? a vederci e hai perso 4 anni di vita il ragazzo ne risente tu che sei in società non ci hai guadagnato un cazzo tutta una serie di cose sbagliate e non fai parte della sua crescita perché lui non si è meritato il posto lui non si è meritato e magari lui ci spera essendo che è titolare e quindi magari ci spera che cresce e poi magari viene scartato esattamente e quindi questa è la prima cosa la cosa ancora più sbagliata che è assurda questa le scuole calci no no parliamo di professionisti quindi il sistema professionistico favorisce quindi nel mio caso per esempio io sapevo che se entro i 23 anni non avessi fatto qualcosa ero fuori perché tu hai anche lì che pressione tu hai le quote anche lì da giovane quindi hai diciamo under 23 e le società guadagnano per ogni per minutaggio quindi per ogni minuto che una quota gioca ma va sì 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 oh madonna ti parlo di soldi pesanti ti parlo di 90.000 euro a partita madonna poi aspetta se tu sei un portiere che va dalla serie A o un giocatore che fa una scuola di serie A eccetera non soltanto io che sono a scuola di serie A ti pago lo stipendio di quel giocatore cioè ti parlo della mia situazione io ero un ragazzo che avevo 22 ho giocato in lega pro dai 20 ai 23 ok la società non soltanto doveva pagare il mio stipendio quindi erano 40 quello che cazzo era all'anno perché c'era anche l'ordo la tassazione lorda quindi costava il doppio ma in più vabbè guadagnava le quote nel caso in cui dovevo giocare ma in più si precludeva la possibilità di guadagno immediato e facile perché se loro avesse preso il portiere della Fiorentina la Fiorentina gli paga lo stipendio via 40.000 euro dal bilancio e in più guadagna per minutaggio e in più ci sono i cosiddetti premi valorizzazione che cosa sono? sono i premi che la Fiorentina paga alla società di serie C ma io ti dico che c'è gente che paga anche 10.000 euro presenza dio quindi tu capisci bene che un sistema del genere è come cazzo fa una società di calcio porca puttana a essere sana e dici cazzo se io c'ho un giocatore che vale più o meno e voglio valorizzarlo lo pago ma secondo te qual è il problema? cioè come lo fai ad aggiustare un mondo così? avessi la soluzione e secondo te? per me è politico il problema politico? sì è politico sulle regole delle società e tutto sì c'è troppa ignoranza nel calcio c'è troppa gente che è un mondo facile da fare soldi è un mondo dove chiunque può entrare perché? ma in Italia non è neanche un business lo vedono così magari cioè se tu vuoi vedere i bilanci e le squadre serie A sono allarmanti allarmanti cioè il Milan è sotto i 300 milioni l'Inter è 200 milioni ma come cazzo fai? cioè lo tieni in piedi perché? perché lo tieni in piedi? perché sono quelli che in inglese si chiamano cash cow cioè che in qualche modo c'è qualcuno che ci pide i soldi se no lo tieni in piedi cade cioè non dico proprio è alla luce cioè non dico io vai a vedere i bilanci ma in quale altro sport oltre al calcio girano tanti i soldi? in Italia? sì ma nessuno Formula 1 nessuno Formula 1 sì Formula 1 Formula 1 Formula 1 dove però hai è un interesse un po' più internazionale perché non è una cosa dici italiana c'è la Ferrari vabbè però è come se fosse la Super Lega cioè alla fine vedi Leclerc vedi Tizio cioè una cosa molto più international la Super Lega però ne girano tanti madonna però contro però ma non in quelle modalità come l'ha lanciata ho fatto proprio una cagnata ma è che altro giorno era una Lega oltre alla Champions e le altre Lega che ci sono che volevano introdurre c'erano già molti club che erano d'accordo tra l'altro anche italiani Juventus, Milan, Inter aspetta due anni fa no un anno fa un anno fa l'anno scorso che avevano annunciato qualcosa mi tolgo tipo dalla FIFA no non da FIFA quella roba lì sì sì brava vedi che ci sei ma la FIFA che sembrava tutto fatto per la fine sì 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 si è ritirata alla fine tutti sì perché tutti contro dicevano che non dava molta visibilità ai club minori in poche parole ok e quindi alla fine no no dai poi bastava solo lasciare spazio ai club minori comunque l'hanno fatto proprio sport cioè come l'hanno annunciata è imbarazzante non so se ti ricordi come l'hanno fatto proprio è stata una decisione che hanno preso a tavolino dieci persone letteralmente quindi Florentino Perez e gli altri affiliati l'hanno annunciata come se fosse tipo il golf per il calcio come cazzo fai non c'era una cosa del genere così cioè devi la gente piano piano devi portare lì perché sennò poi cosa dicono ti viene come colpo di stato la percezione che hai è tutto percepito lì la percezione che hai è colpo di stato però il concetto in sé in realtà è interessante perché sì sì non è male è come l'NBA se ci pensi cioè fai un cazzo di vedere a me spettatore cioè Brescia Milan ma magari preferisco vedermi dieci volte Milan Liverpool sì certo quindi come spettacolo c'ha senso poi ovviamente ci sono un sacco di altre tematiche che rialzo le mani la cultura comunque il fatto che tu puoi sempre il bello dello sport è anche che puoi sempre ti fare la scuola che fa schifo e puoi sperare tipo l'Eister no? puoi sempre sperare tipo il Napoli quest'anno che è primo eh dai correglie sì sì chissà che cazzo con Milano lo finiranno giù a Napoli pensa se non vincono è impossibile però pensa che casino devono cioè è più casino non interisti ormai c'è un meteorite su Napoli devono fare come con la Juve che gli tolgono 13 punti così lo sapevo hai seguito la vicenda di Jaco Bianco ultimamente? sì l'ho anche conosciuto di persona lui sì 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 lui l'ho conosciuto perché ha fatto questo evento a Praga e mi hanno invitato perché c'è questa start-up che fa Live Penalty si chiama che è fighissimo un concetto fighissimo in pratica tu sei a casa hai il telefono quindi al telefono fai diciamo telecomandi una una spara palloni letteralmente ok con il telefono che figata con un portiere vero ma va sì quindi tu da remoto cioè vedevi me per esempio io ho fatto l'evento con loro per questa roba qua io stavo lì in porta e tu da casa potevi farmi gol no ma bellissimo fighissimo no fighissimo infatti quando me l'ha detto ho detto no raga io devo assolutamente vedere cioè che cazzo state facendo dovevo venire che sistema e lui era un investitore di questo progetto quindi l'ho conosciuto in quell'occasione lì grande mi è sembrato da non c'ho come lì anche lì non ho un rapporto ovviamente però mi è sembrato una persona super anche sveglia molto intelligente e il fatto che ha fatto quella cosa lì fa solo onore secondo me perché è il primo vero non vero è il primo coming out di un giocatore di un certo livello vero? in Italia mi sembra di essere affatti altri da altre parti del mondo però è molto coraggioso è stato perché l'ambiente del calcio ora serie A non lo so perché in tutta onestà non sono mai stati serie A ma a me del calcio se è più o meno simile conosco qualche giocatore non è che ci sia tanta sensibilità si percepisce comunque sì però devi stare molto attento devi stare lui a legge ne l'ha detto è un settore omofobo non mi ricordo bene le parole però il calcio è molto omofobo cioè il calciatore macchine fighe qualche interesse personale probabilmente hanno un po' più di intelligenza test nel senso voglia di pensare soldi punto e poi partite cioè o parli con un calciatore la cosa è o parli di calcio o parli di questi argomenti qua oppure ci sono anche persone perché la idea che hanno anche altri interessi o comunque che hanno se sono un po' più sensibili lui evidentemente ha fatto una cosa del genere sicuramente uno che ha questa cosa qua dentro posso citare un grande artista italiano immenso chissà che non è una canzone dice non vivo di pallone non parlo di figone non indosso vesti buone quindi sono fuori da ogni discussione bella di chi è questa? caparezza 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 proprio tu devi sapere quanto dirai c'è un artista italiano è caparezza oh dovete portarla al podcast forza io è il mio obiettivo ok un taglio da mettere la domanda prima quando ti ho detto del video in inglese si ma non hai paura che facendo video solo in inglese con sottotitoli in inglese le persone in Italia non li capisca è una scelta non è un problema mio cioè non ti interessa che gli italiani ma a me in realtà tutto il discorso social non l'ho fatto per me ovviamente nel senso l'ho fatto per me nel senso all'inizio sono partito con l'obiettivo di trovare una squadra poi è voluto nell'obiettivo di creare un business ok da questa cosa ma non in una maniera convenzionale quindi in maniera un po' più diversa quindi fare un'azienda che potesse in qualche modo sfruttare gli short form video che è quello che ho fatto non il classico brand del creator che poi vende le maglie o queste robe qua io avevo anche addirittura pensato di chiudere lo Instagram cioè nella mia testa sì perché lo tengo perché comunque è sempre un asset alla fine della fiera cioè è una cosa dove mal che vada posso andare lì e dire mi invento qualcosa che mi tira fuori qualche soldo ok ok però è una cosa che non mi interessa se è Italia Norvegia Finlandia Portogallo cioè a me interessa che sia lì quindi capito tutte le idee nascono da te sì vabbè faccio da sole per forza hai la testa brava mentalità tipo millemila video incredibile eh vabbè guarda mi sono scoperto che ho tanti difetti tanti però la creatività fortunatamente è una delle cose che non mi manca perché molti a quei livelli che fanno così tanti video c'hanno gente dietro che gli dice cosa sì degli iscrittori degli autori sì però alla fine di quella che ci sono creatori anche dieci volte più bravi di me cento volte più bravi di me che sono così creativi che lo fanno cioè ce ne sono tanti quindi no ma è figo è un mondo pieno di opportunità quello del web sai che nella mia ignoranza li ho trovati molto interessanti quelli che ho visto cioè intrattenenti al termine giusto sì 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 mi sono piaciuti nonostante io non seguo al calcio cioè ne ho visto uno in cui spiegavi come girare il piede o la caviglia non mi ricordo adesso bene perché non conosco è più in là esatto ed era interessantissimo sì nel senso mai ci avrei pensato perché giustamente ma sono due mani tutti i dettagli le dinamiche anche più piccole che sono nascoste uno pensa si butta sulla palla e lo prende poi cazzo sono un portiere ma aiuterebbe tantissimo sono un portiere un ragazzino sta giocando a calcio ho 15 anni non riesco a fare quella roba mi capita un tuo video io lì sarei tutto il giorno a guardarli più che altro come portiere è una responsabilità della madonna no a fare questi video no no a fare il portiere proprio come ah madonna sì 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 no è pesante è pesante cioè va sempre contestualizzato ragazzi certo certo ci sono lavori molto diversi cioè in carità di dio sportivamente parlando professionalmente parlando se tu devi paragonarlo con la tua vita io ero cioè io ho vissuto la cosa ovviamente poi mentalmente devi essere di un altro passo ok perché ovviamente il calciatore normale non ha queste pressioni il portiere sì il portiere se tu se tu sbagli una cosa sei fuori se tu sei un secondo e vuoi diventare primo sbagli la tua occasione della vita hai finito di giocare carius bravo guarda carius cioè questo ragazzo qua era una promessa allucinante ha fatto due papere nella partita sbagliata a un momento sbagliato ha perso la cosa finito cazzo fidanzato di Maria di Letta Leotta sì 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 è quello con più responsabilità il portiere però ragazzi tra chi para il rigore al novantesimo chi para il rigore quello decisivo confronto a chi fa gol è molto più soddisfacente pararlo parare il rigore al novantesimo secondo me è molto più soddisfacente che magari segnarlo non sono mai stato un attaccante quindi penso più tipo i rigori al finale dei europei quelli sono quelli visti vedi tutta Italia tutto il mondo che ti guarda ragazzi perché bene o male nei rigori è molto più probabile fare gol cioè alla fine sono stesse sono stesse però quando uno ha un rigore la prende sempre come se fosse gol sì sì e parare quel rigore decisivo quel rigore al novantesimo donna Roma agli europei ragazzi quante ne so è andato al PSG è andato al PSG se avesse fatto gol Giorginho sarebbe andato vabbè gioca già nel nel Chelsea però sarebbe andato che ne so chapeau no ma è l'unica forse il rigore è l'unico esempio in cui il portiere non ha niente da perdere è l'unico esatto cioè puoi far solo che meglio perché se te sbagli il rigore decisivo sei ti ammazzano se invece non pari il rigore decisivo però tutta la pressione che tu vedi è esattamente così tutta la pressione quindi ogni volta vedi anche le interviste che fanno tutti gli attaccanti che devono tirare il rigore decisivo due palle esatto tu immagina che il portiere deve avere quello tutto l'anno tutto il tempo ogni secondo perché lui tu deve avere in dieci secondi che devi tirare il rigore ed è tanto detto invece vuoi al contrario ai rigori no però durante la partita è esattamente l'opposto però per lungo periodo l'attaccante fa una papera e tira fuori il portiere fa una papera e prendete gol esatto infatti il motivo per cui se tu vuoi parlare anche con i grandi portieri ho avuto la fortuna poi di avere ogni tanto ho parlato anche con Vicario per esempio ultimamente ma anche con Meret ma anche gente magari non italiana ok hanno tutti famiglia si sposano tutti prima possibile sono tutti tranquilli meditano leggono fanno cose ma semplicemente perché devono avere un equilibrio mentale per arrivare a top avere un equilibrio mentale interno pazzesco perché se non hai quello vai fuori testa c'è Cassano Barabalotelli portiere non lo so ma è complesso sicuramente complesso può essere che il portiere sia la figura nel calcio visto come non un ruolo di squadra ma più da singolo si è uno sport individuale totalmente cioè individuale perché la squadra alla fine è uno sport individuale il portiere secondo me si 100% wow e infatti senti tutta la pressione che dicevi prima eh si e poi è l'ansia per la tua carriera perché ti fai cioè io nel senso non l'ho vissuta con l'ansia perché ho imparato a non viverla con l'ansia ma all'inizio cazzo tu sbagli una cosa sei fuori fai quello se sei nel retrovie hai tutto cioè sei sempre un passo fuori ma poi c'è ogni volta che succede qualcosa sono tutti tipo sbagliano sono tagliati sempre fuori il portiere del Chelsea che l'hanno fatto entrare al 80 no al 119esimo perché era pronto per i rigori no e tipo ha fatto una paper no l'ha tirato e l'ha sbagliato no ha detto di non farlo entrare alla chiepa esatto ha detto di non voler entrare hanno perso quella partita hanno dopo un peso Mendy merda qual è stato il momento in cui ti sei guardato allo specchio e hai pensato ce l'ho fatta ti dico sì e no nel senso che non ho mai pensato di avercela fatta perché non ce l'ho fatta ma ho pensato ora ci siamo quando ho acquisito consapevolezza voglio dire bello quando ho fatto la scelta di voler smettere perché avevo l'offerta lì della serie B americana per dire potevo fare quello e poi avevo dall'altra parte la possibilità di creare qualcosa lì ho capito veramente cioè può essere filosofico no ma chi cazzo ero perché lì alla fine della fiera dice ok qual è la cosa che veramente vuoi ok e lì ho detto quando ho capito quello sono andato lì su quell'altra cosa lì è stato il mio punto di svolta e l'ho fatto malecentemente un anno fa e lì ho detto adesso sono veramente tranquillo perché anche se non ce la posso fare posso guadagnare milioni posso guadagnare niente non lo so quello che cazzo sarà però lo faccio con la consapevolezza che è la scelta giusta quindi quello secondo me l'avercela fatta è capire quella cosa lì quindi capire il perché tu vuoi fare le cose secondo me è quello poi una scelta guidata dalla tua integrità morale no guidata da quello che mi piace letteralmente ti guardi dentro che ti piace sì perché alla fine il calcio mi faceva impazzire però c'era quel lato creativo di me che voleva uscire ok e il calcio non lo poteva fare e col calcio anzi sono sempre stato struito io quando facevo i video li facevo di nascosto ho dovuto ho dovuto fare di quelle magagne in Lega Pro mi mettevano i bastoni tra le volte tutti per fare i video sì no ma di quelle robe in Italia per carità a veto totale e quindi poi comunque ero sempre giusto mi sono sempre comportato eccetera ma c'era sempre quel freno cazzo voglio fare qualcosa anche di mio voglio fare qualcosa voglio esprimermi un po' anche su quello che voglio pensare a creare soluzioni cose e quindi quando ho capito che alla fine avevo questa opzione avevo l'altra ho fatto questa scelta lì penso di aver capito ce l'ho fatta nel senso ho capito che cazzo voglio fare assolutamente è il giusto ce l'ho fatta esatto sì bello poteva andare bene come risposta mi piace tantissimo mi piaciuta molto Jacopo grazie per questa chiacchierata grazie a voi è stata illuminante grazie questo è un argomento che non avevamo mai toccato è vero quindi molto interessante sono sicuro molti calciatori la vedranno e gli aiuterà anche per capire meglio il mondo fa piacere speriamo grazie mille ragazzi è stato veramente piacere se ci sono dei portieri o meno su instagram e su tiktok ragazzi per imparare fidate il migliore attaccanti per sapere le tattiche segreti dei portieri potete vederlo e i portieri per imparare sì perché no super onesto grazie mille per averci seguito in questa puntata speriamo di rivedervi presto anzi speriamo che voi ci rivedrete presto in una prossima puntata di idea zero podcast peace iscriviti al canale Grazie a tutti.